Musica Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale Dead Maniacs Signore, ci sono qui per portarvi un video esclusivissimo Signori, eccovi qui, la prima missione del nuovo DLC Rise of Iron Questo video è spuntato in rete all'improvviso e stiamo facendo questo video in modo più velocemente possibile per portarvelo sul canale Il video intero lo troverete su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale che trovate sempre in descrizione E come potete vedere ragazzi non è una test build, bensì è il gioco vero e proprio Stiamo scoprendo, anzi stiamo cercando di scoprire come possa essere possibile una cosa del genere Quindi vi invito a passare sulla pagina Facebook per il video intero E che dire ragazzi, da Golis è tutto, qui The Maniacs, enjoy!